Siamo in testa delle miscele, non potrà fare di vedere il bravo Qui è il carro dentro? E' un po' di fredda Oh! 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 E, come noi, come noi, come noi! Let's start with Cools preoccupations Mes amici, bel ecran producciò, con bel feyton qui relai la promesse de Dio. Mes amici, alle su YouTube, tape bel ecran producciò, abonne, e pi patage, like, fè commenter pa o, bel ecran producciò, bel feyton, bagay serienet, la promesse de Dio, nous comprens samedi, la promesse de Dio, bel ecran producciò, mes amici, abonne, 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 e pi like, bel ecran producciò, abonne la vel, a lave noi, règnouvel l'ampevoi pounou, male? Bon, ce a mis a pe la, e vaticasso ho ga, e vaticasso ho ga, et non, mi a meso, muntevila, e vinterrocio, abonne la moussio, e sà mis a pe, e t'es a l'ampevoi, sòmèo, a l'ampevoi, a l'ampevoi, a l'ampevoi, a l'ampevoi, a l'ampevoi, No 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 ho nonPIL? Hai visto Henri ha detto? Ecco lui un Badedangelo Maria lo comiamo Presidentanti Signor comunità? Ok Cont minsla di una? Cont domainessa Pagò verta chi di Mande Cioè io?! Sia cosa più grande tadi? Sunu insegnare mi piace Come si sta pensando in ragionamento. Tra la Gallagio. Si devi fare solo. Quindi si fa. Questo è qui mi piacere da cercare. Ta giornata con voi. La giornata, mi esprimer... Si non. per te che vedi che ti sono andata con me come se non 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 Questa è una bella occasione per me giocare. Perché ogni volta che ho torno a un po' di lavoro, la mia gioia è una cosa che mi ha capito. Quindi, la mia gioia mi ha chiamato, che mi ha preso. E io mi ha detto che, ogni giorno, ogni giorno, ogni giorno, ogni giorno, ogni giorno. Sveglio! Chi si sa? Ha detto a tutti, che ci sono anche due ragazzi, che non ci sono ancora più qui risponde non lo so che risponde e non lo so che si stesso si concentra questa coincenza Non, non è certo, io ne sono mai più la mia faccia, la mia faccia, non è quello che mi sono, ok? sono là i capte dei giorni e dei senti Inizia la mia famiglia, non ha più volta da qui ho? Oh! Se mette in ora, cosa vu tillerci? Guarda, Guys, è vero, che è vero, il mio padre non conosco il mio padre, ma il mio padre è detto, sono allevato con me. Io conosco molto bene, con i altri unici, e mi senti che la gente ha beneduto giorno a giorno. Non è che lo encontrarmo il suo corpo, non lo sape z'era. Perché non mi parli, a parlare anche Greek. Che dice? Non, ma è solo Greek. Che cosa ha fatto? Ha fatto? Non, è proprio grazie a te ma oltre, con cui mi sono stati felici. Soprattutto con l'ancipio, apprende anche le fotografie del Gourou. Questa si bella sulla, devo sviluppare un po' di esprimazioneEhemu. Si, per la gente che ti cerca di una Degenerà, si non c'eva una irrigazione, si è una malicazione, si è una malace, Non c'est за che non c'est quella. Non so, è endirizzato. un'evasore sulla dunque cosa laver ci si se vi non se si che non faccio ogre tutti sono 500 ancora si non hai detto che proprio la mania la mia moglie i ragazzi i ragazzi salle i ragazzi i ragazzi i ragazzi i ragazzi Non è meglio che il conto per il conto, ma che il conto è il conto per la contazione. Non è meglio il conto di che il conto. Non è meglio il conto. Ascoltare e se ci non c'è ne vagi ma ma la la l'acqua il 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 Non, 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 non. spettare il mio cuore non c'è il mio cuore questo è il mio cuore il mio cuore il mio cuore e questo è il mio cuore e questo è il mio cuore loco questo mi è piaccione ma ci sono le cuore ma buona cosa è meglio Non ci sono le mie. Non ci sono le mie. Non ci sono le mie. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Je m'assoie de pas. Voilà. Non, la mamma non c'è. Ma la mamma non c'è mai di più assioremo tutto. Non, non la mamma non mi assiorevo tutto. No ho da rispota, nessuna relazione e ci sono non �ci... Ma facciamo un ragazzo di questi. Iniziò che sono una relazione, ma non mi rimbano non c'è una女a. Non c'è la ragazza del piuco di questi, non c'è la ragazza che il fatto. Bisogna a tutti i nostri spaventi e qui rafforzano a tenni a vivere? Le droglie è profondo e non si è viaggio alla prossima presto? Non, non non si è come questo, ma non ci viene un bel papà e i nostri amici. Non c'è problema senza tutti i nostri amici? No, non è così. Abbiamo anche il ATO, in saldo e anche il periodo. Si Perché Sono sempre stupendo una sorpresa Si 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 Ese sono in raggiNO! C'è là ancheüzì! Non può essere nemmo, ho già non lo? Come kendi cosa mi faccio. êtes the people with a phone con le tuto prima giornata? Allora sì Ciamo, come quella? Perché questi sono i bacalhati? Non, basta! Tu as immaginato il tuo telefono? Non, sì! Qui le vuoi è? Non, non, non sono un bel lavoro! Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.